Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono particolarmente felice perché io amo questi video in cui Videi, in cui questi video in cui esploro le cose e le guardo sotto il microscopio Da quando ho preso questo microscopio mi sta, cioè mi si è aperto un mondo e sto guardando tutto Una cosa però che non ho ancora guardato e che penso che sarà la cosa più schifosa possibile e immaginabile Ancora peggio di guardare il trucco indossato sotto il microscopio ragazzi Sarà vedere pennelli usati Perché ovviamente quelli puliti non erano abbastanza interessanti Quindi pennelli sporchi e Beauty Blender E poi voglio vedere anche la collezione dei miei, non tutta la collezione ma alcuni dei miei slime preferiti del momento Voglio vedere come sono al microscopio, la cosa mi spaventa alquanto Perché ho paura che uno poi non utilizzerò mai più questi pennelli Numero due non utilizzerò mai più la Beauty Blender Numero tre non toccherò mai più gli slime senza prima mettermi tre paia di guanti Penso eh, penso Con cosa vogliamo iniziare? Io inizierei dai pennelli Perché no? Iniziamo proprio dalla cosa più zozza Ma forse lo slime è anche peggio Perché se ci penso tocco sempre lo slime Sì, poi mi lavo le mani però Insomma, comunque Eccoli qua i miei pennelli Questi sono quelli che uso di più Ci tengo a specificare che li lavo anche a volte Non è che sono sempre così zozzi Però in questo momento non sono appena lavati Ok Beh, iniziamo da Quello pennello Vogliamo iniziare Quello da cipria Che uso anche per togliere Se mi cade tipo dell'ombretto Eccetera Sulle guance E andiamo a vedere Oh Che schifo Cos'è sta roba Guardate i singoli peletti del pennello Sembrano dei vermi Oh mio dio Io sono sempre schifati Mamma mia Ho i brividi ragazzi Ho i brividi Non sto scherzando Mi fa un'impressione Credo che le cose chiare Cioè il pennello è scuro E poi sulla punta ci sono queste cose chiare Questa è la base Dove il pennello sembra essere più pulito E pulito per modo di dire Non so che cosa sia sto pelo Che schifo Che schifo Qui ci sono tipo dei glitter Evidentemente ho pulito il fallout Di ombretti glitterati E sì Le setole alla base sembrano Sembrano capelli E sembrano quasi quasi Che cos'è sta schifezza? Non voglio sapere Non voglio sapere che cos'è sta schifezza Perché sembra un verme nero Tra tanti vermicelli Anche Devo dire che comunque sembra zozzo Però la punta delle setole È la cosa più schifosa Più sozza Più imbarazzante Che guardate che roba Ci sono peletti Un sacco di prodotto Cioè guardate su ogni singolo pelo Quanto prodotto c'è Mio dio ragazzi Vi prego Dobbiamo lavare Almeno io Perché lo dico voi Magari voi siete più bravi di me Ma devo veramente Lavare i pennelli Molto 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 più spesso Dopo aver visto questo video Io a questo punto Andrei a vedere anche Un pennello occhi Questo pennello piatto Che uso per la palpebra fissa Ed è di Dior L'ho usato parecchio Ma non tantissimo Quindi non c'è Si vede che c'è del colore sopra Però non dovrebbe essere sporchissimo Vediamo Oddio è disgustoso ragazzi Disgustoso Che schifo Vabbè Vabbè questo è tutto L'ombretto marrone Però Accanto a tutto Questo ombretto marrone Ci sono tipo dei Tipo dei Puntini Di dubbia provenienza Non sembra Forfora Che schifo Peli vari Mi fa troppo troppo senso Anche questo L'ho appena usato Mamma mia No vabbè Finisco questo video La prima cosa che faccio Vi giuro Vado a lavare tutti i pennelli Ma non Cioè Shampoo e basta Cioè li immergo Nell'acido muriatico Tipo Cioè Io non posso Non posso concepire Una schifezza del genere E io li uso Questa è la base del pennello E E da qui Guardate La schifezza Che c'è Oh mio dio Oh La punta è ancora peggio Oh mio dio Oh mio dio Mio dio E penso di averlo usato tipo Non lo so Forse Cinque volte Senza lavarlo Decisamente sono troppe Mi sto accorgendo Decisamente Decisamente troppe Poi questo pennello L'ho usato Una o due volte Per il contouring E Allora Appunto Si vede che è stato usato Però Cioè Dovrebbe essere pulito Semi pulito Andiamo a vedere questo Oh mio dio Allora Anche questo Sulla superficie Ha dei peletti Schifosissimi Però Devo dire Che Mio dio È disgustoso Però Forse è meno Disgustoso Rispetto agli altri Almeno questo Non mi aspettavo Che i miei pennelli Fossero così Sponti E così Zozzi E così Disgustosi Ci sono peli Random Neri Che non capisco Da dove arrivino Polvere Che cos'è sta roba Sopra Sono tipo dei peletti Sopra bianchi Che non credo Oh mio dio Che cos'è sta roba No vabbè No vabbè Ok Anche se l'ho usato Soltanto Ma una o due volte È la cosa più disgustosa Al mondo Oh un altro pelo nero Che schifo è Io mi meraviglio Non è che si muove Oddio ragazzi Oddio ragazzi Non è che si stava muovendo Che schifo Ho i brividi Ho i brividi Cioè io vado Vi giuro Li immergo tutti Nella mucchina Poi nell'acido muriatico E poi alla fine Li lavo con lo shampoo E comunque non sarà sufficiente Beh un'altra cosa Che vorrei andare a vedere A questo punto Abbiamo fatto 30 Facciamo 31 E la beauty blender Ragazzi Qui ci tengo a fare una parentesi È perché non sono zozza La beauty blender La lavo Prima di ogni singolo uso Quindi questa Era pulita L'ho usata adesso Per mettere il fondotinta E basta Prima era pulita Quindi questo è Un uso soltanto Della beauty blender Ok Perché se io Non la lavo Ogni singolo giorno Mi ritrovo la faccia piena Di brufoli Quindi sono tipo Costretta a farlo Adesso che ci penso Perché mi sto spaventando Perché so già Che quando lo farò Sarò disgustata E non vorrò mai più usarla Allora Oh Che strano Oddio È stranissimo Vederla al microscopio Allora Questa intanto È la parte che uso di più Quindi la parte più cicciotta Del nostro Della nostra beauty blender De rovetto È tutta spugnosa Adesso provo Un attimo A premerla Vediamo Ah si aprono Respira ragazzi Respira Vabbè Sono un po' Affascinata Un po' Sono affascinata E disgustata Allo stesso tempo Se è possibile E si vede Che è una spugna Vederla così Non sembra Ma al microscopio Decisamente Si vede Che è una spugna E adesso Capisco Quelli che Si sono visti Insetti Vivere nella beauty blender Perché effettivamente C'è tutto lo spazio Per un insetto Per poterci Entrare E fare Della Spugnetta Un nido Io spero Che questa cosa Non mi succede Perché vi giuro Vi giuro Se non li avete visti I video in cui la gente Ci trovava ragni dentro E beh Se capita a me Io vi giuro Che non mi trucco mai più Cioè non mi trucco mai più Non con la beauty blender Sicuramente E' sporca E' veramente sporca Perché non si vede Nemmeno il colore verde A tratti Sì ma Cioè praticamente È solo fondotinta E qui si può capire Quanto la beauty blender Assorba di fondotinta Praticamente Sperchiamo metà boccetta Solo Cioè che rimane Sulla beauty blender E Ciao Mi fa un po' senso Pensare che ci sono Questi buchi Che io Un pelo Schifosissimo Rosso Che cos'è sta roba Perché c'è un pelo rosso Sulla mia beauty blender E perché io a occhio nudo Non lo vedo Oh mio dio E' tutto torcigliato Dentro i buchini No vabbè ragazzi Avevo fame Prima di filmare questo video Mi è passata Quindi questo Se volete Se state seguendo una dieta Guardatevi questi video E Non capisco Cioè Mi fa un po' senso Pensare che io La lavo la beauty blender Però Non riesco ad andare Così in profondità Cioè guardate quanti buchini Si va veramente Tanto 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 in profondità E non credo di riuscire A lavarla Proprio bene 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 Visti appunto Tutti questi Buchini Adesso passiamo Alla parte Che è meno sporca Perché è la parte Laterale Che praticamente Non uso Sì beh qui Qui c'è giusto Una piccola differenza Sì questa parte Decisamente Un altro pelo Ma io perché Ad occhio nudo Non li vedo Cioè io sono scioccata Ci sono tutti questi peli neri Che io ad occhio nudo Non vedo Cioè guardate un altro qua E vi giuro Che guardando La beauty blender Non c'è Quante volte ho detto Schifo E quante altre volte Diro schifo In questo video Contatele Saranno oltre 100 Adesso voglio andare A vedere con voi La parte che io uso Sotto agli occhi Come correttore Cioè Per il correttore Quindi la punta Oddio Mio dio Questo è ancora più schifo Mio dio Guardate quanti peletti neri Ci sono E vanno sotto La superficie Sono tutti Cioè guardate Quello di Sinistra Penso sia La vostra sinistra Cioè guardate Quello più in alto Come è attorcigliato E arriva da sotto No vabbè Oddio Io voglio una beauty blender Nuova ogni giorno Che mi trucco Che cos'è Questo pelo Nero 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 Oh mio dio Ragazzi 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 Io sono letteralmente Io sono sconcertata Cioè io non riesco a capire Come possa esserci Come possa esserci un pelo Così lungo E così nero Nella mia beauty blender Guardate quanto è grande Quanto è lungo E ragazzi La cosa più assurda E più terribile di tutte È che non lo vedo Assolutamente Assolutamente Ad occhio nudo Eppure c'è Eppure c'è Ed è anche Gigantesco Ok Penso che sia meglio Con veramente Con i pennelli La beauty blender Smetterla Io vorrei vedere con voi Gli slime Slime Che ovviamente Sono usati E io non so Che cosa aspettarmi Che cosa ci troverò dentro Iniziamo Con questo Questo è una specie di Marshmallow Slime Sta di fragola Ed è fichissimo Perché fa un sacco di suoni Non so se potete sentirvi Comunque fa un sacco di suoni Fa un sacco di bollicine Oh mio dio La parte sotto È decisamente Tutta 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 liquida Però è una figata Questo slime Ed è un po' che non ci gioco Ma ci ho giocato Davvero davvero tanto Oddio Sembra Sembra pelle Umana E sembra Sembra all'interno Della bocca Di qualcuno Santo cielo Queste sono tipo Le bollicine No vabbè Questo è davvero interessante E quasi non è così Schifoso Come mi aspettavo È sicuramente Sicuramente interessante Qui c'è la parte Un po' più liquida È sicuramente interessante No vabbè Anche qui c'è qualche pelo Che non si sa dove arriva Però adesso Questo sembra un orecchio È sicuramente interessante Vederlo sotto il microscopio Perché è davvero Completamente Completamente diverso Da come si vede dal vivo Poi un altro slime Che ho usato davvero davvero tanto Era questo che si chiamava Tutti frutti Perché ci sono tutti questi fruttini Eccetera Però sono andati tutti sul fondo E notate che questo era Oh mio dio Oh mio dio Oh Oh Mamma mia Puzza ragazzi Questo slime Puzza Deve essere pieno Di batteri Germi Non so di cosa Ma puzza Quindi non è pulito E anche perché questo era clear Era completamente trasparente E adesso è decisamente nuvoloso Scadono gli slime Dove buttarlo Però Non si è asciugato E non è troppo liquido Quindi ci si può giocare Ok interessante Vabbè Appena appoggiato Vedo subito un pelo nero Un fiorellino Che cos'è? Un fiorellino Altri peli neri Vari glitter Che sicuramente Non sono glitter Ma chissà che cos'è E' sinceramente disgustoso E' pieno di fibre strane Strapieno di fibre strane Che cos'è questa macchia? Che cos'è? Ok Una macchia non ben identificata Non sembra niente di Questo Che cos'è? Mamma mia No vabbè vi giuro Io questo video è molto molto peggio Di quando ho fatto il video In cui guardavo il make up Al microscopio Lo slime è veramente La cosa più disgustosa al mondo E io non capirò mai Che cos'è Che cos'è Quella macchia nera E forse è meglio che non lo sappia Dopo questa terribile esperienza E io sono ancora scioccata Andrei invece a guardare questa Al microscopio E' una squishy pasta magica L'ho trovata in cartoleria E questa Con questa ci ho giocato poco Quindi credo che Spero Mi auguro Che sia ancora decente Ed è Una pasta magica Trasparente Che sa di Oh Questo è veramente un piacere Non usarla dopo quella schifezza di prima Questa sa di fragola Ed è super super perfumata Super super buona Ed ha Tutti questi Tutte queste stelline Quello che ha detto Sono tutte queste stelline Questi cuoricini Che la rendono anche Abbastanza Scrunchy Insomma si sente Non tantissimo In videocamera Probabilmente Ma io lo sento E' veramente strano Beh Si vede che è trasparente Ma la prima cosa che vedo E' un pelo Anche questo C'è Ma perché Appena ci metto il microscopio Arrivano sti peli Che non si sa Veramente Che provenienza Abbiano Proviamo ad andare più vicino Uuuuh Vabbè Le stelline Le stelline I cuoricini E tutti Tutti i glitter Un altro pelo nero Cioè io vabbè Non ho parole Però vedere le stelline I glitterini I cuoricini E' molto carino Secondo me Questo è bello Questo mi sta piacendo Questa è la parte più bella E meno disgustosa del video Anzi per niente È disgustosa Anche perché profuma Benissimo Ha un profumo buonissimo Questo slime E mi piace Vabbè Questi peli Non mi piacciono E ho capito ormai Che la mia vita E' fatta di questi peli neri Che sono ovunque Non ci posso fare nulla Però Tutto sommato Tutto sommato Si vede che non ci ho giocato tanto Perché E' abbastanza decente Come Cadodere Ogni tanto Gli prende sta parlantina E' abbastanza decente Ancora Come slime Almeno Sembra abbastanza decente Si vede che è ancora trasparente E' bellissimo Vedere tutte le stelline I glitterini Sembrano giganteschi A microscopio Ed è fighissimo Anche vedere Tutta la parte Trasparente Perché Sembra tipo Sembra acqua O Tipo Gelatina Noi lo so Però questo è veramente 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 Figo Il mio nome Secondo me è molto satisfying Vedere lo slime Al microscopio Se non è disgustoso Ovviamente Poi una volta che inizi A giocarci E' difficile mollarli Questi Oh Che buon profumo Ora vorrei passare Allora vorrei passare Alla Crazy Aaron Thinking Putty Che è uno slime Ma è molto più Non so come dire E' un pochino più rigido Ma non è rigido E Sembra un po' più E' un po' più Perché è magnetico Non so perché Comunque è figo Perché ci puoi giocare un sacco Questo non profuma Però ci puoi giocare un sacco Ci sono i glitterini In questo poi ce ne vabbè Li fanno di tantissimi colori O anche quella completamente trasparente Ed è figo Perché appunto Non si asciuga mai E se lo tiri piano Si allunga Se invece lo tiri velocemente Si strappa Andiamo a vedere Ci ho giocato molto Con questo però E' scuro Quindi non so bene Cosa aspettarmi Ma ci sono tantissimi glitterini Secondo me saranno interessati Beh no In realtà non è Non si vedono tantissimo i glitter E sembra più che altro Una Una gomma Cioè uno pneumatico Ehm Mio dio E' veramente Veramente impressionante Guardarlo al microscopio E Sembra Si si vede Qualche glitterino Poi ci sono questi pezzetti Sono glitter questi Mi auguro che siano glitter Non è Particolarmente interessante Devo dire Però parecchio disgustoso Sì 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 Secondo me questi sono i glitterini Che mamma mia Sono dei piccoli piccoli puntini Quando li guardi E invece il microscopio Sono dei Veri e propri Flakes Cioè sono proprio dei fiocchi Voglio andare Voglio provare Un attimino a Stirarlo In modo che diventi quasi trasparente Andarlo a guardare così Così si vede Che è più trasparente E si vedono un pochino di più I glitterini Che però sembrano più piccoli Quindi quello cos'era Non erano glitter E però si vede Sì è strano È veramente strano Questo slime Ma un altro pelo Che non si sa che cosa sia Poteva mica mancare In questo Però tutto sommato Non è la cosa più disgustosa Abbiamo visto di peggio In questo video Ultimo slime Che andremo a vedere oggi È questo E slime sandy Anche questo L'ho trovato in cartoleria In realtà Perché io vado in cartoleria Per tutt'altro E poi trovo slime E faccio incetta Lo chiamano slime Sandy slime Però in realtà È Ma non lo so È strano È molto Sì effettivamente È molto sandy Vedete che sembra quasi La magic sand La kinetic sand Però Al tatto È un po' più Slime Non lo so È molto difficile Da spiegare La consistenza di questo Poi è leggerissimo È leggerissimo Oh Questo è interessante Si vede Si vedono i granelli Di sabbia Che dal vivo Non si vedono Assolutamente Si vedono Tutti questi Granelli Piccolissimi Piccolissimi Di sabbia E Beh Se non altro Questi sono puliti Ci ho giocato Forse una volta Con questo Quindi effettivamente È pulito La cosa che mi colpisce È che appunto Si vedono tutti questi Minuscoli Minuscoli Granelli Ce ne saranno miliardi Che dal vivo Assolutamente Non si vedono Wow Si Questo è decisamente Decisamente Una Una sabbia Che però Sembra Slime Però non è Secondo me Satisfying Cioè non ti soddisfa Come Come uno slime Non ha Non ha nemmeno Un gran che buon profumo Però è stato figo Guardare la microscopia Ok Mia family Questo è il video di oggi Sono ancora schifata Per i pennelli La beauty blender In particolare È lo slime Quello che doveva essere Trasparente Ma non è più trasparente E ho ancora le mani Che puzzano Quindi adesso vado Sinceramente a farmi il bagno Nell'acido muriatico Vado a buttare Tutto quanto Perché mi sono resa conto Che Cioè Guardare il mondo Al microscopio Ti fa rendere conto Di quanto tutto sia sporco Di quanto ci sia Un sacco di roba Che tu Non vedi Ma c'è Ok Quindi Spero sia stato Molto Istruttivo Questo video ragazzi Laviamoci le mani Laviamo i pennelli Laviamoci Laviamo tutto Adesso diventerò Avete presente quelli OCD Cioè compulsivamente Ossessionati Con la polizia Che vanno Tipo a monitorare Tipo lo zero Se i mobili Sono con lo 0,00% Di batteri Perché altrimenti Non vivo più Quindi questo è quanto Scusatemi se avete appena mangiato Scusatemi se dovete mangiare Vi ho fatto passare la fame E è passata anche a me Quindi questo è quanto Fatemi sapere se volete altri video del genere In cui Scopro il mondo al microscopio E fatemi sapere soprattutto Cosa volete vedere al microscopio Ok Mi riprenderò Mi riprenderò dopo aver fatto questo video Promesso che mi riprendo Adesso no Ma mi riprenderò Questo è tutto Bacio Grandissimo mio family Vi voglio bene Scrivetemi tutto nei commenti Che li leggo sempre a tutti 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 E bacio Abbracissimo Forte 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 E voi vedrete questo video Domani che è martedì Quindi noi ci vediamo mercoledì Domani con un nuovo video Ciao 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 Ciao